Ecco a voi, Skylanders Battlecast! Preparatevi a una nuovissima avventura Skylanders che rivoluzionerà i giochi di carte collezionabili! Con Skylanders Battlecast potrai dare vita alle tue carte su tablet o su cellulare! Combatti con il tuo Skylanders preferito! Colleziona le carte per creare il tuo imbattibile team di Skylanders! A giocare online? O contro gli amici? Solo tu puoi dare vita alle tue carte! Creare il tuo team di Skylanders! E diventare un invincibile Battlecaster! W l' momento del suo